Ibraimovic Si è girato come per dire io segno, io sono decisivo Ha sentito la pressione dopo Manchester Boom! Boom! Il tiro violentissimo E poi la mette sotto la traversa, imprendibile assolutamente Sedicesimo colpo di tre Che bomba Perché la palla gira ma soprattutto è fortissima 2-0 dunque Doppietta di Ibra Sempre giro Cesare però No vabbè Poi non l'hai detto non aveva fatto solo Ibra Possiamo cambiare Ibra assolutamente 109 avete visto Non è il record Il record è San Siro 147 Adriano Finisce qui l'arbitro